I think I understood most of it, it was about our bilateral, huh? Yes, and I do not want to... So you understood it? As I was present, I understood it. Ok, ok, questo lo possiamo saltare. Vuole che lo salti o vado di corsa? Sì, sì, no, I think she can... I can go fast if you wish. No. I'm fine, cara Giorgia, dear Prime Minister. Minister Fitto, Governor Bonaccini, where is he? There you are. And Mayor Zattini, Commissioner, Excellencies. So it's very moving for me to be back in Emilia-Romagna because I vividly remember the visit last year in May and I will never forget the devastation these horrible floods caused. Grazie, grazie Giorgia. Cara Giorgia, caro Ministro Fitto, Governatore Bonaccini, dov'è è seduto lì? Sindaco Zattini, grazie cari tutti voi. È veramente estremamente toccante per me tornare di nuovo qui in Emilia-Romagna dove sono venuta in visita nello scorso maggio dopo, immediatamente dopo le devastanti alluvioni che vi hanno colpito. E non dimenticherò mai queste devastazioni che hanno provocato terribili alluvioni. Grazie.